Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come avete letto dal titolo, probabilmente è uno dei video più attesi di questo periodo, ossia come si gioca a FIFA 22. Una bella domanda che ci saremo posti tutti quanti, per alcuni magari non avrà ancora una risposta. Io mi sono fatto la mia idea, infatti durante queste giornate di tryharding estremo nelle Division Rivals per arrivare alla tanto agoniata Division Elite che mi sono preso sabato, per fortuna, mi sono fatto una mia idea di quello che può essere il meta di quest'anno in attesa della prima patch. Quindi ci tenevo a portare un'analisi gameplay del meta attraverso un primo tempo di una partita che ho disputato proprio in Division in questi giorni e che offre un po' di spunti sia sull'attacco che sulla difesa, per dare un'infarinatura e un'idea generale in vista della prossima Weekend League che inizierà venerdì 8 ottobre per la prima volta quest'anno, quindi per dare un po' uno spunto a tutti su quello che si potesse, si dovesse e non si dovesse fare su FIFA 22. in entrambe le fasi, poi non vi preoccupate, arriveranno analisi dettagliate sia della fase offensiva che difensiva, però ci tenevo a partire da qui. Quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere, passerei subito sulla schermata dove ci attende anche la nostra lavagnetta tattica per andare ad analizzare tutte le situazioni di gioco. Questa è una partita che io ho giocato in Division 2, quindi essendo nei primi giorni era già una partita di alto rango, infatti giocavo contro un player tedesco molto forte. chiaramente vedete che attacco da sinistra verso destra, mi riconoscete dalla maglietta del Cagliari e anche dal nickname sui giocatori, e vedete che sono schierato con il 4-2-3-1 che vi ho portato nel video di lunedì, cercando, come vedete nella manovra, di prendere ampiezza, quindi di giocare in maniera abbastanza larga per aprire quella che è la serratura dell'avversario, perché mi fermo subito, avete sicuramente visto come quest'anno si venga a creare praticamente una barricata all'interno del centrocampo dell'avversario, che praticamente c'ha sempre tutta la CPU schierata a marcare i nostri uomini. quindi bisogna assolutamente cercare di portare l'avversario in fallo fuori da quella che è la posizione di barricata, perché altrimenti non si riesce a entrare in nessun modo. cerco, vedete, anche di sfruttare il kickoff, perché come sapete è un'azione propizia, quindi tengo ancora di più il pallone cercando di avvicinarmi a piccoli passi. guardate subito lui un'altra cosa molto interessante che ci tengo immediatamente a farvi notare, come va a difendere. praticamente non seleziona mai quello che è il blocco difensivo, ovviamente, e sta sempre fisso a difendere innanzitutto in prima battuta con quelli che sono i suoi giocatori offensivi, e poi in seconda battuta va a difendere con quella che è la linea del suo centrocampo, quindi giocatori che sono davanti alla difesa e che fanno da schermo, per evitare che vengano presi appunto i difensori creando scompiglio nella sua retroguardia. quindi quando mi dite che non riuscite a difendere perché i miei giocatori sono sempre fuori posizione, state attenti perché la difesa inizia dall'attacco, andandovi a prendere i vostri giocatori offensivi tirandoli indietro per andare a fare la prima pressione in mezzo al campo, quindi occhio, vedete lui come qui mi viene a pressare con Manet, guardate come mi insegue fin qua, qui prende Mendy, Bruno Fernandes, adesso switcha su De Bruyne, adesso va a prendere Walker perché mi sono messo in zona pericolosa, e qui già si può leggere un primo approccio da parte mia, perché cerco di allargare il campo, la palla arriva con Ronaldo, e qui io con Ronaldo cerco immediatamente un tiro a giro, tiro a giro che in particolar modo da questa zolla qui, quindi dal vertice alto dell'area di rigore, o anche da qui, o anche più o meno in questa zona un po' più centrale, è veramente letale, non preoccupatevi perché tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare il tutorial su come segnare spesso su FIFA 22, e ci sarà anche spiegato questo tiro a giro, quindi oggi ne vedrete una prima idea, però approfondiamo credo domani. E ovviamente qui la palla a Ronaldo avete visto che è arrivata non con un passaggio normale, ma con quello che viene chiamato Driven Pass, ovvero un passaggio teso. Vedete, perché quest'anno vi siete sicuramente accorti che i passaggi sono abbastanza ambigui, e qui io con Kanté vado a servire Ronaldo su questa verticale con il Driven Pass. Il Driven Pass si esegue in maniera molto basilare con il tasto del tiro a giro più il tasto del passaggio, quindi a seconda che voi utilizziate R1-R2, R1-R2 più passaggio. E vi viene questo passaggio teso, che è molto buono, sia perché salta spesso e volentieri quella che è la marcatura avversaria, sia perché mette nelle condizioni di poter subito utilizzare il pallone per concludere, per poter fare una finta, oppure per poter fare uno scarico 1-2 rapido. Qui però il mio avversario è bravo a leggermi e mi chiude. Io qui che cosa faccio? Queste sono giocate che siete abituati a vedere da parte mia, perché a me piace uscire alto a pressare. Quindi io qui vado a fare la prima pressione alta con Mendy e piuttosto che rinculare con Kanté vado a prendere effettivamente Varane perché mi accorgo che la distanza tra lui e il portatore di palla è ridotta e quindi il tutto si traduce in un recupero altissimo da parte di Varane che mi dà la possibilità di riguadagnare palla in quella che è la metà campo avversaria e imbastire subito una nuova azione offensiva. Azione offensiva che come vi dicevo riparte sempre con estrema calma a cercare l'ampiezza, a cercare tanto di coinvolgere nella manovra anche i miei giocatori più arretrati che come vedete sono entrati tutti nella metà campo avversaria per creare superiorità. Fanno tantissimo gioco i centrocampisti, guardate Bruno e Kanté quanto sono coinvolti nella manovra e lo scarico ovviamente spesso e volentieri arriva sul terzino proprio per il discorso che vi dicevo dell'ampiezza, il terzino che viene a supportare la manovra nonostante abbia restato in attacco perché comunque appena andrò a perdere il pallone si catapulterà all'indietro. Ancora guardate con pazienza per cercare di gestire il pallone lui insiste in maniera perenne con questa difesa a oltranza fatta di mediani infatti guardate mentre io cerco di far girare il pallone e lui tocca solamente questi tre giocatori come ha la linea di difesa perfettamente schierata ha messo in fuori in gioco un bappé c'è il terzino che minaccia Messi l'altro terzino che copre Ronaldo e due difensori centrali che possono uscire a dare una mano qualora io volessi andare in zona centrale. Quindi quest'anno veramente c'è un livello di CPU molto molto elevato che per essere contrastato ha bisogno di due cose o giocate in contropiede che poi andremo a vedere oppure giocate così di possesso palla reiterato volte a catturare l'errore dell'avversario. Qui Neymar si viene a staccare dai blocchi cerca di scambiare con i centrocampisti io cerco ancora una volta la giocata larga verso Messi magari per costruire il tiro a giro ma non va. Funziona molto bene la mia pressione alta stavolta riesco a servire Neymar passaggio di prima questo illuminante verso un bappé e tiro ad incrociare qui quindi che cosa voglio farvi rivedere? Innanzitutto quello che è il passaggio verso Neymar da parte di Kanté che ancora una volta avviene attraverso un driven pass perché vi assicuro che su questa diagonale se il passaggio fosse avvenuto tramite un semplice X la palla sarebbe stata facile preda di Bruno quindi innanzitutto qui abbiamo un driven pass nella zona di Neymar poi il nostro avversario va a fare la trappola del fuorigioco e di conseguenza io lo vado a punire visto che bappé fa questo movimento di prima lo vado a servire con Neymar e quando arrivo al momento della conclusione abbiamo un'altra situazione perché qui quest'anno vanno tantissimo i tiri ad incrociare perché qua avevo praticamente tutto lo specchio aperto se fosse stato gli altri FIFA probabilmente avrei tirato una fucilata sul primo palo cosa che invece quest'anno assolutamente non è consigliata e quindi ho tirato ad incrociare per cogliere il portiere fuori dai suoi pali visto che l'aveva anche mosso se aveste fatto un tiro a giro o un tiro sul primo vi assicuro che il portiere Superman di quest'anno all'interno dell'area di rigore sicuramente l'avrebbero parato quindi attenzione i tiri ad incrociare e in particolare i Driven ovvero i tiri da soterra che vedremo domani nel tutorial sulla finalizzazione perché sono veramente molto molto efficaci vedete qui come il portiere è andato totalmente al bar su questa conclusione di Killian quindi 1-0 vedete che qui in fase difensiva inizio a manovrare i miei giocatori anche io dalla fase offensiva e mi avete chiesto in tanti che cos'è questo indicatore verde che esce sopra la testa dei giocatori questo indicatore verde non è altro che il raddoppio il raddoppio si va ad attivare nel momento in cui noi schiacciamo il tasto del tiro a giro quindi R1 e R2 e che cosa fa? praticamente fa in modo che il giocatore nostro più vicino al portatore di palla che non è selezionato da noi vada ad avvicinarsi quando va usato il raddoppio il raddoppio va dunque usato per stringere in una gabbia l'avversario in fascia in particolare è utilissimo per cercare di chiudere lo spazio dell'avversario e costringerlo a tornare indietro infatti vedete qui il mio Messi come viene a dare una mano a Bruno Fernandez e io minacciando Mendy costringo il mio avversario a tornare su Kanté ancora una volta qui cerco di avvicinare sia Neymar che Bruno facendo a spola tra i due e utilizzando il raddoppio mi raccomando raddoppio anche qui poi uscirà video dedicato esclusivamente al raddoppio ma raddoppio che non va mai spammato e si è abusato perché altrimenti il giocatore ve lo trovate fuori posizione e in realtà vi fa solamente danni piuttosto che aiutarvi qui guardate come il mio schermo difensivo funziona con Kanté che si fa praticamente tutta questa zona di campo aiutato da Bruno che invece fa la zona di sotto e il mio avversario è nettamente in difficoltà vedete come gironzola su se stesso per cercare di trovare uno spazio che però non arriva vedete con raddoppio come chiamo Messi a dare una mano a pressare Kanté qui lui bravo con questa crocchetta cerca di liberarsi però con Bruno recupero facilmente il pallone perché non mi lascio attrarre dai suoi giochini adesso parte quella che è la seconda faccia dell'attacco ossia il contropiede vedete perché lui qua perde palla in una zona di campo pericolosa e io mi vado a lanciare ovviamente una volta che viene chiuso lo spazio però torno indietro per ricominciare la manovra perché quest'anno è fondamentato ragazzi non perdere il pallone sul contropiede in particolare in zona offensiva pericolosa perché visto che sono molti forti i contrattacchi si va facilmente a subire anche se la nostra è una manovra offensiva guardate qui con questa serie di driven pass come arrivo all'interno dell'area di rigore nuovamente ma devo poi uscire con Messi palla che poi arriva a Neymar e il portiere fa un miracolo questa azione voglio farvela rivedere per farvi notare ancora una volta l'importanza del driven pass quindi questo passaggio teso qui guardate un altro passaggio morbido quindi con X semplice avrebbe fatto sì che la palla sarebbe stata praticamente preda di 4 giocatori probabilmente addirittura questo era proprio in marcatura su Neymar invece il driven pass con la sua potenza fa sì che il pallone arrivi su Neymar che può controllarlo mettere il fisico davanti Bruno Fernandes qui va a fare ancora un driven pass rapido su Messi qui ancora ottimi gli scambi tra i miei giocatori al limite dell'aria Kanté ancora una volta per evitare che sul pallone venga ad intervenire il Kanté avversario vado a fare un driven pass nella zona di Neymar in maniera tale che il pallone arriva forte e teso e Neymar può girarsi immediatamente guardate e poi qui quello che vi dicevo prima è il driven il famigerato driven tiro rasoterra che si fa l'1 più tasto del tiro di precisione e in questo caso io ho fatto anche il time and finishing un'altra meccanica che quest'anno per me è fondamentale va attivata e non vi preoccupate che arriverà anche il tutorial su di questo perché è fondamentale concludere attraverso il time and finishing per cercare di avere un tiro più forte e un tiro più preciso qui però il portiere decide saggiamente di compiere un miracolo per il mio sommo disappunto che non vedete perché la mia cam copre quella della live dell'altro giorno da calcio d'angolo cerco di imbastire un'azione però poi vedo tutto chiuso e torno indietro attenzione a perdere palla sul calcio d'angolo come ho fatto io ora perché qui siete messi totalmente a pecora come mi piace dire guardate qui ci sono i due attaccanti che stanno minacciando Gio Gomez per fortuna Mendici mette il gambone e la recupera perché altrimenti sarebbero stati huge dolori per me probabilmente avrei preso il gol del pari occhio qui con Cristiano Ronaldo i tiri a giro di cui vi parlavo in precedenza e in particolare il time and finishing guardate ancora una volta quella è proprio la zolla che vi ho evidenziato in precedenza e soprattutto ci tengo a dire un'altra roba eh ma tu hai Ronaldo eccetera raga questi tiri li fa chiunque abbia semplicemente il tratto del tiro a giro quindi parliamo anche di insignie best meme ma li potete fare veramente con tutti i giocatori perché soprattutto se prendete il time and si annulla qualsiasi tipo di discorso bene o male sono tutti bravi a calciare quindi provateli e soprattutto anche se non avete i giocatori buoni fateli lo stesso perché quando avrete i giocatori buoni sta meccanica vi sarà rimasta in testa e andrà a funzionare quindi provateci perché qui Ronaldo pure se sfortunato e non trova la via della rete perché di traverse se ne prendono tante Messi è abilissimo sulla ribattuta a ribadire in rete quindi questo per farvi vedere anche questo pattern dei tiri a giro quando la difesa è schierata fondamentale provare la conclusione da fuori perché veramente veramente OP qui ancora una volta vedete con il raddoppio come cerco di muovere Messi senza controllarlo per operare pressione ritorno con Neymar nella mia meta a campo e Kanté recupera facilmente il pallone visto che devo semplicemente selezionarlo avendo indotto all'errore il mio avversario ancora una volta vedete come prima l'azione parte magari con una fase di contropiede per poi eventualmente rallentare su quella che è una manovra più ragionata quando il mio avversario è rientrato perché vi siete accorti che appunto le difese rientrano in maniera molto rapida grazie alla nuova tecnologia hyper motion del capture 11 versus 11 che ha reso i movimenti molto più automatici a dispetto della manualità di cui sono un grossissimo fan qui purtroppo mi faccio prendere in imbucata poi gli autoblock per fortuna mi salvano e lui fa un time da giro rosso che per poco non entrava e mi avrebbe fatto non poco triggerare qui ci prova lui da calcio d'angolo scucchiaiata al centro ma il colpo di testa però è troppo alto mi raccomando gestite bene questi calci d'angolo piuttosto appunto fate andare la palla rimessa dal fondo ma non perdetela perché i contropiedi veramente sono letalissimi perché ci avete un sacco di giocatori davanti anche se mettete uno non mi chiedete per quale motivo quest'anno l'hanno fatto così belli anche questi cambi di gioco queste sventagliate vi permettono di variare il fronte per far muovere la squadra avversaria che segue la palla quindi va da un lato dall'altro in rapidità e se voi muovete così il pallone trovate sicuramente degli spazi un'altra cosa che andrebbe evitata è di controllare il pallone troppo tempo perché avete visto quanto i micromovimenti siano distrutti guardate qui Walker come si gira male e viene rubato il pallone da Bruno Fernandez che può azionare la manovra offensiva dell'avversario che ancora una volta mi coglie in imbucata però qui fa una scelta sbagliata perché se voi ci fate caso io adesso vi vado a stoppare il frame avreste sicuramente notato che la possibilità di dare la palla c'era su Son credo questo sia Son piuttosto che darla su Mané che era in fascia marcato quindi qua una pessima gestione del pallone da parte sua dopo aver recuperato invece ottimamente quindi ha sprecato un'azione molto molto pericolosa allora vedete come cerco di ripartire io con questa serie di driven pass veloci che sono ripeto veramente l'essenza delle azioni per evitare che i passaggi marci vi penalizzino qui guardate come ritorno indietro come al solito con Kanté su quella che è una linea praticamente orizzontale vedete come cerco di non portare mai i giocatori in ampiezza ma sempre sulla stessa linea per evitare che in profondità scusatemi ma sempre in ampiezza per evitare che se facessi di così e lui andasse a passare il pallone in questa zona sparirebbe Kanté invece se io lo porto su questa linea qua Kanté va praticamente a dare fastidio e a mettersi in mezzo su quelle che sono le linee di passaggio quindi attenzione a muovere bene i centrocampisti non portateli fuori posizione altrimenti poi siete costretti a prendere i difensori e questo non è mai buono perché vi fa poi l'avversario superiorità numerica e si creano le azioni da gol ed è assolutamente la cosa che va evitata qui 42esimo cerco di gestire un po' il pallone perché sapete che come al solito al 45 c'è il rischio di avere delle cose discretamente magiche che accadono Neymar qui si gira abbastanza bene fraseggia ancora con Bruno e con Kanté vedete l'importanza dei mediani nel creare la manovra ottima qui la giocata di nuovo con questo driven pass all'interno dell'area di rigore proprio per Neymar e qui mi chiedete di skill skill quest'anno ragazzi non ci sono queste grandissime skill quello che vi posso dire è che la finta di tiro però è una sicuramente delle più efficaci e sempre verdi all'interno dell'area di rigore di prima vedete qui come mi sono girato benissimo non ho fatto il time non ho fatto il driven errore mio probabilmente questo sarebbe sarebbe stato goal qui ancora una volta cerco cerco lo schema però la palla viene recuperata dal mio avversario e termina qui questa prima frazione che ci tenevo a analizzare insieme a voi quindi ragazzi per quanto riguarda questo primo analisi di meta fatemi sapere che voi che ne pensate se state trovando ancora difficoltà mi raccomando concentratevi tanto sulla difesa che parte dagli attaccanti passa dai centrocampisti e sui difensori solo in ultima razio dosate bene il raddoppio in fase difensiva per quanto riguarda la fase offensiva sfruttate i tiri da foro che sono rotti i driven shot cercate di imparare il time ma non vi preoccupate arriveranno poi tutorial dettagliati per spiegarvelo e soprattutto cercate una manovra che diciamo oscilla tra il contropiede e la costruzione lenta perché è il modo ideale per poter arrivare a concludere quindi raga per quanto riguarda questo video è tutto io spero sia stato utile fatemi sapere nei commenti come al solito in descrizione trovate tutti i riferimenti per le live giornaliere sulla piattaforma viola e tutti i miei partner un salutone al vostro Liberoschi vi auguro una buona giornata ciao ciao